Siamo pronti! Siamo pronti con un trattato di pace proposto dai Redi stessi Io l'ho accettata e i nostri piani sono completamente cambiati Dal distruggere e annientare completamente i Redi siamo passati alla progettazione di una nuova guerra Quella contro i Lugi, la tribù germanica a ovest e da me Da est, scusate, grave le coordinate A est e da me, che sono stata comunque una tribù abbastanza percora nera come ho detto l'altra volta Che è stata un po' in mezzo alle palle per i nostri profitti Quindi ragazzi, direi, senza perdere tempo, di cominciare a giocare Allora, diciamo subito che da quando è morto Clodgare il Redi è diventato Geralt 63 anni, Baldopino, 63, Anselmo 34, madonna, certo qualche giovincella al comando no eh Tutti vecchi? Ho capito che si chiamano capi anziani, però dai vabbè Quello è letteralmente, però su, beh Allora Siamo progettati, allora Stiamo costruendo Non possiamo, al prossimo turno costruiremo Una stata dei cavalli per cominciare a ricordare qualche cavalleria Anche se non è niente di che Però Tanto un po' di cavalleria ci sta E ragazzi, direi di passare velocemente il turno Case naturali Carl Ah, è morto Carl L'ultimo membro degli altri capi Vabbè Diciamo, dovrebbe andare a vantaggio nostro Perché almeno la influenza politica è più sulla nostra famiglia Ho notato ragazzi che, ai ai ai, i luggi sono tornati L'esercito, diciamo, grande è tornato a Budorgis Budorgis, quindi ragazzi sarà un po' dura Per adesso ci avviciniamo Però non possiamo progettare un attacco vero e proprio Per adesso ovviamente Ah, ecco il nostro confine, arriviamo qua O a meno che possiamo portare, eh, Geralt A supportare Eh, non mi ricordo come si chiama, ma Baldovino Prima era Clodogar, quindi mi devo un attimo riabituare Però prima di fare ogni cosa, un attimo vedere Come siamo messi Allora, i godi siamo davvero buoni 74 approfitti dall'accordo commerciale Non è niente di che, però Eh, però, dobbiamo anche costruire Uh, potremmo riuscire a fare un accordo commerciale Aspettate un attimo No, ho sbagliato Per sbaglio ho fatto No, non ci credo Che stronzata che ho fatto Ho offerto il pagamento senza la richiesta del commercio Che paverata che ho fatto Vabbè, dovrebbe comunque aver migliorato lo stesso I rapporti Doni, doni, offerte di godi 15 Ah, non è male Vabbè Ho fatto una cappellata Dove solamente chiedere l'accordo commerciale Facciamo per E... Ora posso costruire? No, perché per sbaglio ho fatto Quella cavolata Voglio passare il turno un'altra volta Madonna Che fail I Geroshi ci fanno un'offerta Ovvero andare a attaccare i Redi Ripartecipare, diciamo, per noi Ripartecipare alla guerra contro i Redi Ma purtroppo, ragazzi, non posso accettare Non è per niente, eh Però Non possiamo, sinceramente, in questo momento Dobbiamo concentrarci prima sui luigi In caso ci dichiarano guerra ai Redi Ma vaffanculo Ho parlato Cioè Non ci credo Non ci posso credere che mi hanno adesso dichiarato guerra Vediamo un po' se i Geroshi Ah Vabbè, almeno ho accettato Di fiancheggiarmi Niente Ah, è morta la spia Sì Dobbiamo reclutare una spia, ragazzi Quindi A parte non ci avremmo fatto lo stesso A costruire le stalli Però ci serve la spia Per, diciamo, sabotare Gli eserciti Ed è essenziale Allora, ripetamone una buona Oddio, questo non è male Meino Perché dà anche più dall'ordine pubblico L'influenza culturale Qua tra la ricchezza Vabbè, non è niente, però Meno 5% dei costi di esecuzione Eh, pure quello non è male Eh, mi piacerebbe reclutare anche un campione Però adesso la spia, diciamo, è quella un po' più Di, ha più di priorità, insomma, ecco Vai, facciamo meno Ok L'azione distrutta Tilis Ma non ce ne frega niente Madonna, come è andata bene, Luigi È andata proprio bene stavolta Cioè, sono salvati Perché se avrei avuto molti più introidi Avrei reclutato un esercito Cioè, avrei reclutato più uomini a Geralt E l'avrei messo posizionata a Burzis O comunque Più o meno in mezzo Per difendere entrambe le due I densitamenti Venata proprio bene, Luigi Ciao, vedi, un culo della madonna Oppure, aspettate un momento Quanto costano? 98 Eh Ci tolgono un sacco di denari Però a reclutarle Queste quante Oddio, potremmo anche reclutare qualche unità, eh Io sinceramente me la vorrei un po' rischiare Facciamo così Allora Mandiamo Eh Mazza, quanto poco Punti di movimento abbiamo Mandiamo Geralt E Valdobino qui per sicurezza Oppure che ho Burzis Se non ce la facciamo a difenderla Sì, però se mi beccano In marcia forzata C'è il rischio che mi fanno imboscata Quindi In caso la riconquistiamo Non è un problema Però, ragazzi Siete questo è il piano Io non voglio abbandonare questa opportunità Di distruggere i luci Quello che volevo fare era Ricoltare un po' di unità a Geralt E cercare, diciamo, di Riuscire a resistere quanto possiamo Volevo cercare di Di fare con Valdobino Comunque un attacco ai luci Cercare di strappare i Burzis Quindi cerchiamo di attuare questo piano Anche se Non è che sia proprio facile Allora Solo una fra l'ansia e lanciari Che schifo Se lo sappiamo non riclu A parte la spia comunque ci serviva Non le levo queste lave con lancia Le voglio sostituire con Veranze e lanciari Ma per adesso non posso Quindi Che ci sono di mercenari? Sì, però Ci salgano troppi denari Vabbè, regà Passiamo il turno Oh, truppe a rubare Veranze e lanciari Ok Oh, ragazzi Guardate che è successo Allora Ovviamente Scontato Un esercito di eredi Sta avanzando Anche se Un esercito di kerushi Sta avanzando anche esso Il problema Sapete quale ragazzi È che Come sappiamo Essendo anche i kerushi Germanici Hanno anche loro Dell'unità Abbastanza Scarze Scarsine E ho paura che Non gliela facciano Non ce la fanno contro Eredi È questo il problema Quindi Quello che pensavo di fare È mandare Ovviamente Gerulf E Vediamo come Ce la facciamo No, non ce la facciamo proprio Non voglio rischiare di mettermi In marcia forzata E rischiare di subire una Una imboscata L'importante è che abbiamo Quest'unità Di spadaccini Che comunque ci danno Un supporto In corpo a corpo Questo è l'importante Adesso mandiamo la spia Allora Valdovino Possiamo anche riportarlo qua Aspettate Mettiamo la marcia forzata Almeno ce l'abbiamo prima Mi so fa su e giù Con Baldovino Con Gerulf Lo portiamo Intanto sul confine Sperando che non attacchi Nogasurgis Ma non credo E reclutiamo Oh, potremmo regolare Tre leve Al posto di Una sola Fata di lanci Lanciari Diciamo che il numero Adesso ci serve Certo anche le Non che siano forti I giovani germanici Però diciamo Per adesso Lo diamo tre leve Che ci possono servire Adesso ci serve il numero Per fronteggiare i redi Purtroppo Perché la qualità Non siamo disponibili Eeeh Fatemi vedere una cosa No Probabilmente Noi la facciamo A fare accordo commerciale Con nessuno Quindi I godi Proviamoci Non l'accettano Senza Amo denari Vabbè raga Passiamo il turno Oh ragazzi Ricerca completa Servitore dell'elite Causa natri Gerolf Lo so che comunque Sarebbe morto A un certo punto Allora Altri capi Capanziani Anselmo Eeeh Sì abbiamo Anselmo Che non è Non può essere usato E direi di usare lui Anche se magari Fate un attimo vedere Il bonus E danno gli altri generali Vabbè il nostro E' quello che ci abbia Schillato Quindi Non paghiamo niente Perché appunto Essendo uno statista Diciamo è quello che Non staffa niente Del membro Della Della famiglia Quindi ci guadagniamo Cioè non è guadagniamo Non spendiamo niente Ecco Allora Andiamo a vedere la situazione I Kerushi Fortunatamente Non sono si attaccati Anzi I Redi Sono fortificati Come è successo L'altra volta Se non sbaglio Sono Sono arrivati a Oburzis Sono fermati Hanno fatto Ciamonforte E per noi Può essere buona la cosa E Gli vedo a fartare 89 denari Ci entrano Ma è normale Non è che possiamo Abbiamo ruotato Tre unità Ok Allora È importante adesso Che stiamo a Oburzis Non attacchiamo ovviamente Sennò sarebbe un suicidio Ce la facciamo a sabotare Sì Però ci deve andare bene Perché Anzi Aspetta un momento Fatemi vedere prima A baldovino Se dobbiamo fare qualcosa No L'esercito sta a posto Non spendere niente E Oh mio dio Potremmo anche riuscire A questa Rebutorci Se sempre Se non Magari Non ci sta L'esercito grosso Nei intorni Però Prima di fare ciò Visto che non abbiamo bisogno Di soldi Fatemi vedere prima una cosa Era questo Se freddo L'elite Sì Fatemi vedere Il corpo a corpo Com'è Ma non è male Dai Non fa schifo Ma non è anche Troppo forte Tanto forte Questo Questo è per L'unità di schermaglie Ma noi non ce ne abbiamo Cioè ce l'abbiamo Ma non sono buone Questo è per Però vabbè Per adesso Gli assedi Non è che ci stanno Vedanto Perché Sono città piccole Che andrebbero Conquistate meglio Velocemente Senza Assediare Nel tempo Allora Qualche cosa Del consiglio Dall'attribù Invece vediamo qua Che poi ragazzi Ogni volta che fate Una sezione Delle ricerche Vi da Il bonus Da varia Seconda appunto Della sezione Della ricerca Vale ambito Però ad esempio Questo economico Da cibo Vedi Più 3 Abbiamo tutto il cibo Grazie a questa Però fatemi vedere qua Il commercio Non è che è proprio Città grande Facciamo ora azione Delle colture Ci da un po' L'agricoltura Visto che la nostra Più che altro L'economia gira Sull'agricoltura Da noi Il commercio È proprio minimo Quindi Conviene investire Appunto Sull'agricoltura Quindi direi Di fare un bel sabotaggio E se funziona Meno male Meno male Che ha funzionato Anche perché Abbiamo solo Pochi soldi Erano proprio contati Mi sarà Appunto Il numero Del costo D'operazione Quindi Ok Facciamoli fare Ovviamente Spia Perché è una spia Beh Mi hanno fatti bei danni Almeno Abbiamo Aiutato anche i crush In caso Dovano combattere anche loro Allora Adesso Possiamo finalmente Dichiarare guerra Ai luci E speriamo Vada alla grande Perché Se facciamo Se toppiamo La vedo male La vedo Ok Dichiariamo guerra Ai luci Sono in guerra Eh Con un po' di fazione La vanda dei schiavi Eh Potremmo anche Facciamereci L'ascizia Reale Gli scordici Scordici Mi sa più scordici Che noi Come siamo messi Quei scordici Eh Meno 10 Giusto la versione culturale Perché Infine Non siamo mai Stati in contatto Come fazione Quindi La guerra Quelli oggi Dovremo portare Qualche vantaggio Direi di creare guerra Eh Vaffanculo Lo giri in merda Mi fanno proprio un cavolo A sta fazione Perché sono state proprio Una palla Ok Allora Uh E infatti si C'è stava un esercito Le stalittiti Eh di sangue Stalattiti Stalittiti Però non è niente Diciamo da Che non può essere Buttato giù Vediamo un po' però Le soluzioni automatiche No Mi dava troppe Troppe 71 Mi dava troppe Perdi Metà Vabbè raga Ci vediamo sul campo Di battaglia Perché secondo me È meglio Ok Allora Sceliamo Un tempo un po' Asciutto Eccolo qua Allora Vediamo Analizziamo un po' Le Le mura Qua Proprio non credo Perché Un po' Credo sia un suicidio Abbiamo Due torri Tre Quattro No Qua ne abbiamo Tre Tre One No Non si può attaccare Anzi si si potrebbe anche Però Uh però aspettate In teoria si potrebbe anche attaccare Perché Si può salire questa montagna Cioè Ci starebbe Ci starebbe comunque Il moto Per salire Però sarebbe proprio un macello Poi disporre le unità E niente abbiamo questi due Questi tre fronti Qual è il più vantaggioso? Questo di sicuro no Abbiamo quattro torri Anche se Però è il più aperto A contare questa Cioè anche questa è aperto Però è anche vero Che attaccare Comunque qui Abbiamo diciamo Una parte Un tratto In cui diciamo Siamo Non dico al sicuro Però Possiamo contare Subire meno perdite Rispetto a qui Che abbiamo Subito il portone Con due torri E qua abbiamo Subito una torri Messa qui Quindi siamo Diciamo Minati A qualsiasi punto Ho deciso Attacchiamo qua Però Lasciamo L'attacco Ai spadaccini Perché I spadaccini Rispetto a Le I lanceri Sono appunto Più che altro Per sfondare Questo l'ho notato Ragazzi Perché ho fatto una volta Una campagna Con Le fazioni greche Dove diciamo Più prevalentemente Sono picchieri E opliti E non è facile Non avere I spadaccini Con corazza Unità comunque Corpo a corpo Non lanceri Ma armati Di appunto Spade E ho notato Che gli opliti Fanno fatica A conquistare il mura C'è bisogno Di una Unità Unità Come spadaccini Che sono Specializzati Nel corpo A corpo E con ciò Possiamo Sfondare Più velocemente Mettiamo Il generale qua I lanceri Diciamo I lanceri Non è che Non riusciremo A mettere Tante unità Perché l'altro L'importante È buttare Tutti i spadaccini Sui bastioni Oh Rega Vediamo un po' Come va Ce la stiamo rischiando Alla grande Lo ammetto Perché stiamo Impegando due fronti Sapendo che Non abbiamo Abbastanza Risorse Per supportare Due guerre Dipende da dove Arrivano i rinforzi Da qua Però non è un problema Perché comunque Abbiamo abbastanza A parte che Ci vuole tanto Per arrivare a noi Ma poi abbiamo Abbastanza unità Per fermarli Non sono tanti Rinforzi nemici Allora Mandiamo I giovani germanici A prendere le botte E cercare Diciamo A buttare giù Anche I giovani germanici La controparte Insomma Alla Andiamo Va Iniziamo a portare Anche I spadaccini Il generale Pure Con dietro Ovviamente I lanciari Per diciamo Difenderlo Da Utopiche Utopistiche Cariche Da dietro Del nemico Allora Con una Attacchiamo Fratellanzi Lanciari I giovani germanici Non me ne fregano Vedete tanto Portatori di scudo Sì Buttiamoli giù Questi Portatrici Sono femmine Incazzate Non le faremo Tanti danni Lo ammetto Però Qualche Diciamo Spanare leggermente La via Anche se Comunque Le botte le prendiamo Vabbè È normale Regà Sì Non è che abbiamo Bel tasti Non è che abbiamo Un grande Diciamo Unità Corazzate È ovvio Che sobbiamo Per perdere Avrei preferito Avere ad avere Arcieri Comunque Siamo più distanti Possiamo sobbire E meno perdite Comunque Se questa Fredanza Lancia Di mortacci Su Ah Va giù Cioè Non va giù Vabbè Fammi spiegare Le loro munizioni Sui nostri giovani Gioveni Sfruttati Puracci Portatrici Su Non fai danni Non stanno Eccoli qua Perché Questi ragazzi Sono unità Particolari Sono Ah non me le fa vedere Le statistiche Sono Unità Come diciamo Vabbè Levando questi Come ad esempio I berserker Comunque specializzati Nel Spaventare gli uomini E comunque Hanno un buon Buon attacco Levandoci queste Ci doiamo anche Un piccolo Anzi Un medio Ostacolo Non siamo riusciti A fare Tanti danni Concentriamoci Sui loro Schermagliatori Che malus Tiri un fuoco Ok Uno Alla Corris Corrispettiva Dovresti Generale Portarla Supportare Anche se Non ha Cazzarola Non ha Però le Abilità Che ci sarebbe Unche leggermente Un po' utili No fermi Non ce l'hanno Attacchiamo Questi Hanno fine Le munizioni No Lontaniamo Chi l'ha finito Sennò Perdiamo l'unità Così Ok Vediamo un po' Va Vediamo il generale Qua Sperando che non ce lo Bombardi La torri Ah non è I nostri I nostri Giavellotti Anche se Purtroppo Non riusciamo a fare Più di tanto Perfetto Qua possiamo sfondare Perché non ci sono Abbastanza uomini Per difendere i bastioni Cerchiamo di Corpirli Bene 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 La guardina E' Contesa Contesa Ottimo Il nostro Generale E' sotto Attacco Ma allora Pasi Dobbiamoci Attaccare Questi da Dietro Questa Fratellanza Lanceri Veloci Veloci Dobbiamo sfondare Più Velocemente Possibile Le portatrici Di scudo Non state Uccise Ma non fuga Si A posto Ok Qua stiamo Attaccando L'unità Ottimo Dove I germani C'è Allora Li sfondiamo Alla dietro Dopo Ok La guardina Non c'è Più Bombardare Ottimo Mandiamo Ma questi No Mandiamo Quest'altri Qua A conquistare L'odore Quest'altri Mandiamo Qua Ok Non mi spaventano Le unità In difesa Qui al centro Città Città Insomma Villa Vabbè Dai Grande villaggio Di certo Non è una metropoli Questa Ora ci mettiamo Così con queste Nintanto Se ne va L'audio Non lo so Perché Vabbè Queste stanno Cambia scala Così Vabbè Bene Bene Stiamo Levando Ok Abbiamo Sfondato Ottimo Abbiamo Questa Ha subito Un po' Di perdite Però Vabbè Oh Questa Attacchiamo Alla dietro La fa una tirare Giavellotti No Non ce la fanno Non diciamo Sì Non ce la fanno Vabbè Importante Che attacchino Alla dietro Ora Appena Questi Siamo In fuoco Facciamo Entrare Generale Come vanno Rinforzi Nemici Non li vediamo Da qui Perché c'è La collina In mezzo Ok Bene Abbiamo conquistato La torre Ah dai Stiamo sfondando Vedete ragazzi Si avrei attaccato Con le fatalenze Lanciari Anche se hanno Una buona difesa I lanciari Sanno un'unità Non per sfondare Ma per esistere Quindi Non avrebbe senso Buttarli A meno che Come esempio Come i greci Unità Greche Che non hanno Cioè Perlomeno Se non stai usando Con i greci Unità come Spadaccini Con corazza Hai bisogno Di Unità Di sfondamento Per forza E l'unica che hai Corpo a corpo Levando gli upliti E levando i bicchieri Che non puoi usarli Senza la falange Sono I cosi Andare in fuga Questi Si Sono i Vediamo il fuga Volontà Che ci serve Poi I cosi I upliti Sono Ma i upliti In un punto Non sono Per sfondare Facciamo entrare Generale Ottimo Allora Io vorrei entrare Per anzi Lanciari Anche se Non credo Ce ne sia bisogno A meno che Facciamo entrare Quante sono Sette Ne facciamo entrare Tre E quattro Le lasciamo fuori Per sicurezza Adesso Mettiamole così Ecco Al contrario Che Affacciate Verso L'esterno Ok Che ci stanno arrivando Giovani germanici Eh Dobbiamo fermarli Nostra generale Non possiamo Far aggirare Vabbè Contraattacchiamo Questo Certo Questo punticello Qui su Un Lachetto Alzo Eh Si alzo Alto neanche quanto le caviglie Non ha senso Vabbè Quante unità sono Ah Questi sono Rinforzi Sono Non è che abbiamo Grande possibilità Di aggiramento Portiamo il generale Per supportare Qua si può usci Si qua possiamo Stiamo nei tre La quarta La facciamo andare qua Ad aiutare Meno male che i nostri Abbiano Anche un po' di esperienza Quindi Se la cavano un po' Mettiamogli il fuoco a volontà Queste Ah Dove come possiamo Usarle Qualgiro Oddio che figlio Metterle qua All'unità Ovviamente questo è tipo Un tempio Una costruzione sacra Perfetto Ok questa Cavaliere centinae germanici Germaniche Germanici Quelle che avremo noi Tra un po' Se costriamo le stalle Sbrigamoci Perché ci tirano i giavellotti Ce la facciamo attirare Noi i giavellotti Si Mamma mia Che dolore Siamo di qui Questi lanciari Una Siamoci qua Avitiamo quest'altra Ok Non sono messi male I miei La fanno resistere Ottimo Ricarichiamo Oppure questa Ce la mandano in fuga Perché fanno Tire e morla Tire e morla Tire e fuggi Con i giavellotti Ci fanno male E torniamo qua Ah no no C'abbiamo una tore Scappiamo Leve con clava Non abbiamo problemi Contro loro Infatti sono già Andati in fuga Ci buttiamo i lanciari qua Questa ci serve Per aggirare da dietro Questo blob Di nemici Madonna Si fanno in fuga Questi E attacchiamo da dietro Tutto questo gruppo Di unità E le mandiamo in fuga Definitivamente Si spera Non c'è io Vabbè dai Sono forti ma Con il numero che abbiamo Sfondiamo Ok Oh adesso voglio mettere I giavellotti Tire e dietro Tire e i giavellotti Tire e dietro Non me ne frega niente Facciamo quello che ci pare Posizioniamoci Mamma mia Mettiamoci qua E niente Questi unità di lanciari Dobbiamo usarli così Perché non abbiamo Guarda abbiamo la nostra cavale Eh Usiamo il generale Va a ammazzarli La va Capito Dai su Iniziamo a usare i giavellotti Si possono utilizzare Ah Abbiamo preso il centro città Grande Stanno demoralizzando Non ce la fanno Prima che lo tirano Carichiamo direttamente Oh Mio dio Che magello Che è stato Fanculo Carichiamo Con il generale Meno male Che abbiamo questi spadaccini Che possiamo usare Quest'ondare Allora Due attaccate Il generale Altri tre Attaccate Quest'unità Ebbè ma come posso Ma come diciamo Potrò aspettarmi Una distanza più forte Anzi già è tanto che Sono passati Quanta parte a 60 Se non sbaglio Un'ora Vediamo quasi In quarto d'ora Dai Hanno resistito Su Oh fermiamo Aspettate Giavellotti Se no ci attacchiamo Dietro noi Ah Non mi hanno mandato In fuga No no Però aspettate Con questo regolatore Ci va a perdere Più cavaliere Lasciamo perdere Alla grande Sono tutti Fuggendo Ok Alla fine qua Non sono più servite Quest'unità Ah ok Ah a posto Tutti senza Maietta Alla grande Distrutti Direi Abbiamo perso 684 uomini Ed è abbordabile Comunque è sempre Un assalto alla città Fortificata Non è un villaggio Normale Speriamo che non abbiamo Perso questi Giovani germanici Speriamo di no Oddio Loro non è che hanno Perso quasi tutto L'esercito Più che altro Quello di Oddio che era Sì Diciamo Sola vissuto Quello di rinforzo Perché comunque Avete visto Non è che ha Vado a moto Per combattere Ah Meno male Vediamo un po' Sì Infatti Stalati di sangue Sono quelli Che sono Speravvisto di meglio Perché Sono diciamo Un po' all'ultimo Ok Baldovino aumentato Di livello Eccoli qua Parte che non abbiamo Punti in movimento Ma poi anche se ce li avessi Non li attaccherei Perché I lugi hanno Diciamo Questa è ancora parte Della silesia Una volta che abbiamo Conquistato i lugi Prendiamo un'intera provincia Vogliamo vedere un attimo Tra I obiettivi del capitolo Assumi Controli attenzitamenti Ok Però quelli Secondari C'è Entrare in guerra Con due fazioni germaniche No Solo una Non ce la facciamo Conquistare questa Questa ce l'abbiamo fatta Ce l'entrano altri 1.500 Questi Non lo so Non credo che 1 o 4 Assumamente Non le facciamo Conquistare 3 province Vabbè Tanto Prende la silesia Anche se Non diciamo Non prendiamo Quell'obiettivo Però ragazzi Voglio andare a vedere Quanto è venuto lungo il video È venuto lungo Una mezz'oretta Quindi Facciamo le ultime cose E poi stacchiamo Allora Mettiamo Esperienza Generale Diciamo Comandante Meno male che Non sono celtiche Queste città Sono sempre germani Quindi non abbiamo bisogno Diciamo di Sare a modificare Le cose Campi addestramento Preferirei sinceramente Un'officina Perché questo Da più che altro Oh Però aspetta Da un sacco di bonus Corpo a corpo Sì Difatti Guardate che bonus Si danno Però più che altro Credo sia la regione Non lo so Non lo so se Anzi No La lascio La lascio Perché da Da buone Bonus Corpo a corpo Però non lo so se Diciamo È per la regione In cui ci sei Non credo che Se esci Ce l'ha ancora Abbiamo anche Le stalle Quindi Eccole qua Cavaliere Sentinale Germanici Sono Unità Dei schermaglia Quindi Non è che Siano Credo anche Diciamo Servirebbe più Fare le scuderie Che danno Cavaliere Cacciatori Che sono Diciamo Medio Bassa Media Insomma Come galleria Allora Torniamo All'altro fronte I redi Ah beh Sì A parte Ci siamo rintanati qua Ok Oh C'entrano 743 Un attimo Vedere Ah sì Ok Ci stanno Nella provincia Ci stanno Ci stanno Ci stanno Ok Allora Che possiamo fare Adesso Direi di passare il turno Perché Non possiamo fare niente Vediamo il contrattacco Dei luci Allora I cimbri I cimbri Cimbri Un'altra fazione germanica Situata sulla Odierna Danimarca Ci chiede un po' Tine aggressione Ma sono in guerra Con i frisi E io Con i frisi Sono Amichevole E chiedere Un po' Tine aggressione Con loro Visto che sono in guerra Appunto con i frisi Peggiorerebbe le mie Relazioni con loro Con essi Gli ultimi Questi ultimi E quindi ragazzi Purtroppo Non posso accettarla Mi piacerebbe Mettermi d'accordo Con tutte le fazioni Germaniche Uh ecco L'esercito Negrosso Ovviamente Quello stava Attaccando I godi O altre Unità Mi è assegnata Sconfice il Giugnante Esercito I cigni di sangue Questo Si Non è neanche Tanto forte Diciamo È tutte le unità Diciamo Base Leve con clava Leve con Lancia Abbastanza Facile da buttare Gio Fazione Distruta Bactria Sì ok Qualsione motivata Germania magna Ottimo Qua sta mettendo Alla grande Morale L'ordine pubblico L'unico mio Dubbio È che io Non attaccherei Aspetterei un momento Per far Rifornire ancora I miei spadaccini Però il problema È che Se cambiano rotta I luci Mi vanno ad attaccare I subdurfo Ma non lo so Come siamo messi Vabbè Lasciamo Cava Del deposito Che dà Un buon rintegro All'esercito Lasciamola Lasciamola Eh Allora Sappiamo che Ai luci Rimane solamente Azzo Si sono espansi I luci adesso Perché prima Erano rimasti qua La capitale Anzi no Aspettate Si sono espansi Perché Avendogli elevato La capitale Diciamo Il logo L'icona Della loro fazione Si è spostata Su una nuova città Che hanno conquistato Ok Prima Non sapevo Che l'avano conquistato Perché normalmente Davano altre cose Vedi infatti Sul confine C'è un po' bianco Verso destra Ok Vabbè L'accetto Non è una cosa Che mi spaventa tantissimo Importante andare con cautela Con i goti Eh St' aumentando La grande Stiamo migliorando Un po' tutto il nord Della Germania Proviamo a chiedere Un'alleanza Difensiva In caso Non vogliono Quella Alleanza normale Infatti Aspettiamo qualche turnuto Tra un po' Perché è un po' difficile Per adesso Facciamo un accordo commerciale Però Oh l'hanno accettato Senza niente Meno male I frisi Non possiamo farlo Vediamo con chi possiamo Possiamo farlo Con i seguani Vediamo un po' Più facile Con i scordici Ok Vediamo un po' No non accettano Vabbè Lasciamo sta Tanto Non ci entra niente Non ci entra Quei goti 77 Mi pare che 741 era prima Vabbè Lasciamo sta Allora ragazzi Andiamo a vedere In pro di qua Concentriamoci un po' Qui Allora I kerushi Sono avanzati Però Il problema È che io In questo momento Potrei attaccare Tanto La spia Non la spendiamo I sabotaggi Perché abbiamo fatto Abbastanza danni Invece Portiamola A Coria A vedere Come stanno messi Alla capitale Peccato ragazzi Quello che Non so È che Essendo in marcia Forse da questo Sassito Dei kerushi Non credo Può partecipare A un combattimento Ora non ricordo Non mi pare Che può Per super combattimento Quando è in questa modalità D'esercito Quindi 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 Purtroppo Non credo Possiamo Andare Spavagli Attaccare Allora Vi ruotiamo Qualche Fratellanza Di lanciari No E vabbè Una leva Con clava Poi in caso Ci attaccano Possiamo attaccarli Ma vabbè L'esercito Vediamo un po' Se davvero Poter scendere a Coria Perché diciamo Tenere queste unità Che non sono forti E che mi prendono i soldi Mi fa un po' Rotere Ok Allora ragazzi Direi Passare il turno Lo passiamo Ce la rischiamo E rischiamo Già dai Allora I redi Ci stanno chiedendo Un trattato di pace Perché Ora vi farò vedere I grushi Hanno distrutto L'esercito Dei redi Una cosa incredibile Non me l'aspettavo L'hanno proprio disintegrato Però Se dobbiamo fare Una Pace Vomitate i soldi 500 No Io non Se non è 1000 Io non la faccio La pace Non sotto i 1000 Ah Comunque ci hanno attaccato A Budorgis Ci hanno fatto Oh Ci hanno fatto Un po' di danni Cazzo Ci hanno fatto Di danni Con l'assedio Mortacci loro Mi sarebbe meglio Che se li attaccavo Ok Volazione ispirata Ok Porto il furiere Ok Allora E quindi ragazzi Direi di sinceramente Sinceramente Se ci sbrichiamo Potremmo attaccare L'esercito De Dei cosi Dei redi Quindi diciamo Facciamo una Una marcia forzata C'è come di avvicinarci Il più possibile Allora Intanto direi Di sabotare La Guarnigione Ehm Fatemi vedere Oddio Mi sa che vale più Sabotare questi E c'è anche Il fede al giuramento Andiamo un po' Eh non è riuscito Vabbè Invece fa un po' rude Visto non abbiamo Tanti soldi Oddio Ho fatto un macello Ragazzi Per adesso basta Perché abbiamo Anche sfiorato Pensate 35 Allora Ci vi lasciamo Con Nel prossimo Anzi no Diciamo Ci lasciamo Con la conquista Di Budorgis E Diciamo La respinta Anche se da parte Dei cruci Non da parte mia Dei redi Nel prossimo Episodio Vedremo la Diciamo la Sortita Contro i I lugi Perché non possiamo Riponere a farci A locurare Anche se Allora Mazza Locurare di proprio 5 perdite Su noi Che abbiamo Persi davvero Tanti Quindi ragazzi Per oggi Basta così Nel prossimo Episodio Dovremo Cercare di Despingere I lugi Cercando di Esaurire Meno perdite Possibile E ci vediamo Alla prossima Ciao belli Ciao belli